E' bella a tutti ragazzi, benvenuti su questo nuovissimo video, io sono Rostanzano e oggi qua siamo su di nuovo parte 5 Bruce Stars Oggi qua vediamo di fare nuove partitelle, quindi vediamo se riusciamo a vincere o magari se dovrebbe succedere che perdiamo Facciamo un pareggio di cose che potrebbero succedere comunque E detto questo facciamo una stessa di partite, in attimo sbocchiamo questo qua Spike Che già abbiamo fatto un sacco di sblocchi in questi leggendari, a parte se fanno poco danni che hanno fatto poco scarsini E diciamo, questo qua di solito hanno poco livello di rispetto di quei più leggendari Perché questi hanno più danni di quelli normali, perché questi sono più forti E diciamo quelli più verdi non diciamo quelli che fanno più meno livello o più meno danno E detto anche diciamo se uno vuole essere meno livello o meno potenziamento O anche se facciamo un poco più alti, magari riusciamo a vincere ragazzi Sì sì sì, riusciamo anche a vincere signori Ok usiamo Maxine e usiamo KO e facciamo questa partitella signori Vediamo se riusciamo a vincere, questo almeno Detto questo non facciamo neanche una sprecata Ok ragazzi, stiamo pronti Andiamo Però si combatte da solo Eccolo Sì, detto questo, sbuccano nulla, che sparano a caso, accetta gente Ecco, tempo a questo mi ha fatto ammazzare Vai, 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 che ce la fai No, muore, muore, muore No, sicuro muore Ma infatti Questo deficiente che è rimasto in solo l'unico Ora si fa ammazzare quello, lo vedete No, non ce la fai Eh, infatti Non riesce a ammazzare in tre poi Ragazzi però Stiamo attenti Attenti Ok, uno è morto, grande Dark Attenzione Attenzione, attenzione Ok, pareggio ragazzi, pareggio Vediamo chi vince il secondo Vai ragazzi Di qua, nevate che mi deve sempre beccarmi in me Ok, beccato io Oddio, poco danno sono rimasto Bene ragazzi Partita vittoria Scusate Ho avuto qualche regia Boh, comunque è andata Un bellissima partita La prima è andata un po' Persa Diciamo Ok I Dinosauri non accetta Vediamo Brock se accetta Non accetta Ci sta tanto ore per votarsi Ci sta tanto ore per giocare ancora O per uscire questo Non so che deve fare Boh, io sto ancora aspettando Finché non vota Zio, quando vuoi puoi sbottare Quando vuoi puoi uscire Niente, esco io Va, perché questo ci vuole un voto Per Da fare cazzate Uh, ci sta Ci sta Ci sta, signore Ci sta Ok, andiamo Qua Ok ragazzi Ci siamo Ci siamo Facciamo Adesso facciamo Domino Vediamo se riusciamo a vincere Sto domino Perché per completare Tutta la bandiera Non è facilissimo Perché ci sono più forti O meno scarsi Ragazzi Quindi Vediamo se possiamo Vediamo se possiamo vincere Ragazzi Vediamo Andiamo ragazzi L'unico è rimasto Un solo Non ho preso poi nessuno Eh no Nessuno Proprio No Già stanno Scompletando Loro 21 Noi Ancora 10 Vai vai Completiamo Completiamo La veloce No Bastarda Sherry No Mi sa che hanno vinto Loro Ragazzi Mi sa che hanno vinto Loro Perché Vai andiamo nel cure A posto Ok Vai vai No C'è Damnite Minaggia lui Eh bomba Vai vai Eh vabbè Dai ragazzi Ci stiamo facendo Completare Tutto Però No niente Hanno vinto Loro qua Guarda Guarda come siete Campeggiatori Ma che pacciatori di merda Che siete Proprio Niente Hanno vinto Loro Ragazzi Purtroppo Hanno vinto Loro Sì Hanno vinto Loro Mamma mia Sti razzi E niente E niente Mi becca Dai ragazzi Dai ragazzi Dai ragazzi Attenzione Niente Niente E rossi Vabbè Vabbè E quindi Dobbiamo Stai E quindi Andiamo Andiamo Noi Per Pugni Eh no Già Eh no Già Già Mi ammazzano Sempre Veloce No Già Arrivano E questa La portiamo In casa Ma perché Non fa Niente Dai ragazzi Che stiamo Completando Ma vaffanculo Perché mi ha Maffiato una riga Già Quell'altro Mi sparava Con due pompe E questo Poi Mi arriva Con una Fresh Lungo Dai ragazzi Che stiamo Vincendo Dai ragazzi Che stiamo Vincendo Vai Bastardo A posto Signore Vittoria Completata E abbiamo Vinto Questa Partita Signori Abbiamo Vinta Questa Partita 12 Benissimo Benissimo Ci sta Ci sta Ah vogliamo giocare Ancora Vediamo Se non vuole Ma ci sta Ci sta Ci sta Tutti votati Ci stiamo Ci stiamo Vediamo Chi sono Questi Oddio Mi sa che Quello Mezzo Sarà Forte Mi sa Di sì Dai che Questa Stiamo Computando Ragazzi Che stiamo Computando Dai ragazzi che stiamo riuscendo a vincere A posto ragazzi Seconda partita fatta E questa l'abbiamo subito portata a casa E questa l'abbiamo subito portata a casa Eh non lo giocavo io non lo gioca ancora Eh scusate ma io devo fare un'altra cosa Andiamo vai vai sbocchiamo l'uogo Benissimo Mettiamo un altro giocatore tipo Lui Lei diciamo E mettiamo un football Vediamo se riusciamo a vincere questa ragazzi Vediamo eh perché non è detto che sia facile Non è detto che sia facile Usate perché mi è venuto così Allergico di raffreddore comunque Stavo dicendo Andiamo Andiamo a vincere Vediamo se riusciamo a vincere anche il football ragazzi Eh già ci mancava Mortis Ok Tienimi d'occhio Tienimi d'occhio Tienimi d'occhio Vediamo se No Arrivano gli altri Eh ma vaffanculo Mortis No ragazzi Tre è impossibile Ma sai questi tre No è morto Bull John Non deve Sì è morto Bull John No Vediamo se riesce No Non ci credo Non ce l'ho fatto No 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 Prendi la palla Prendi la palla Zio Prendi la palla Vai Bravo Vai 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 Continua a camminare Continua a camminare Sto arrivando ragazzi Sto arrivando Grazie Oddio Aiuto ragazzi Aia Ma dai però Ma eravamo tutti in treni poi Dai ragazzi Dobbiamo vincere per forza Stiamo facendo un minuto 0-0 ancora Arriva 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 Vaffanbro Ma vaffanbro No ragazzi Non fatevi fare il gol No ragazzi Sì però non gli fa un cazzo C'è tre Carica tutto lentissimo Poi quando spara C'è ragazzi Spara troppo lento poi Attenzione Vai 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 30 minuti Ok Ma vaffanbro Ma vaffanbro Però Non è possibile Dai ragazzi Un gioco Facciamo però così No Vaffanculo Mortis Mamma mia Mortis Siamo rompi in fare No attenzione Bravo 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 Attenzione Mamma mia sto Mortis Vai E vai Grande Grandissimo Ragazzi L'ultimo supplementare Abbiamo vinto 1-0 per noi Bene ragazzi Ci siamo usciti Ci siamo usciti Va bene ragazzi Ci siamo usciti Ok Va bene ragazzi Va bene Ce l'abbiamo fatta L'importante è che ce l'abbiamo fatta E comunque ragazzi Se il video vi è piaciuto Lasciatemi Like Commenti Iscritti E ci vediamo nel prossimo video Su Brustace O altri video Ciao ragazzi